Allora innanzitutto iniziamo con una premessa importantissima. In questo webinar non scoprirai, non scoprirete un business per chi ama mandare soldi ad un'azienda privata che ha in progetto di creare una sua criptomoneta, chi ama mandare soldi ad un'azienda che restituisce token per poi creare un coin, chi ama avere coin sul back office che non trovano spazio in exchange pubblici o chi ama una criptomoneta con un valore assegnato senza le regole del mercato. Quindi se siete fra queste persone non è il webinar che fa per voi, queste informazioni non vi interessano. Se siete invece persone che vogliono le stesse potenzialità delle più importanti criptomonete mondiali, vogliono partire dalla soluzione dell'exchange e non dal finto problema di averlo già, intendo per una criptomoneta ovviamente, vuole una criptomoneta che crei economia e dia valore con gli scambi e non da logica aziendali, strane diciamo, perlomeno, vuole che l'unico modo per proporre un servizio di mining venga offerto solo accettando la stessa moneta cognata e su questo punto ci soffermeremo tantissimo. Allora questa è la presentazione più importante che abbiate mai visto perché finalmente è arrivata la giusta strategia per un network reale con reale criptovaluta. Per concludere questa premessa, questa presentazione da parte di affiliati dell'azienda ha l'unico scopo di informare le persone sul mondo delle criptovalute e nello specifico sul progetto First Coin Club. Non siamo promotori finanziari. Vi piacerebbe iniziare con una moneta reale già esistente nel mercato e che ha un progetto sostenibile per far sì che la propria criptomoneta salga di valore in maniera costante? Questa allora è l'opportunità giusta. I 5 settori di successo di First Coin. Innanzitutto un'azienda reale con sede a Dubai e potrete andare a verificare tutto quanto. Quindi iniziamo con il primo punto, la criptomoneta First Coin ovviamente. Reale e trasparente perché già esistente. Valore stabile. Abbiamo visto che è un progetto che appunto con sede a Dubai andate a verificare e vedremo perché nello specifico valore stabile che cosa sta a significare. Decentralizzata e limitata come del resto le altre criptomonete ed è l'aspetto fondamentale per far sì che la criptomoneta abbia veramente un valore intrinseco importante. Semplice e veloce. In questo caso, a differenza del Bitcoin, le nuove criptomonete che stanno nascendo diciamo sono più ecosostenibili perché per minare un Bitcoin sappiate che ci vuole molta potenza elettrica. Quindi ci sono elevati costi di elettricità. Secondo punto, circuito ATM. Circuito di sportelli ATM sul territorio mondiale per le operazioni di prelievo e scambio. Avendo così la possibilità di ricevere percentuali share su appunto queste transazioni. Ecco sharing. Terzo punto, sharing economy, programma che ti permette di avere delle share con divisione di guadagni sulle varie partnership dell'azienda grazie al crowdfunding. Processo collaborativo di un gruppo di persone che si uniscono per sostenere e godere degli sforzi collettivi in una startup. Ovviamente in questo mondo digitale, soprattutto di applicazioni, servizi digitali, first coin ha in programma di sostenere startup che avranno come anche come metodo di pagamento il proprio first coin e quindi si instaurerà un meccanismo di eco sharing dove avremo delle percentuali, avremo la possibilità di avere delle percentuali nei vari progetti che first coin club offrirà lungo il cammino. Arriviamo così al quarto punto, apprendimento costante, quindi formazione, acquisire vasta conoscenza sul perché la criptomoneta sarà il futuro della finanza e sul perché la vision di first coin club è così speciale, importantissimo. Cercherò di aiutarvi questa sera a darvene un assaggio. E quindi il quinto punto, il network, la rete commerciale, la potenza del network marketing con un fantastico binario, sostenibile, remunerativo e meritocratico. Infatti qui possiamo vedere che grazie al network potremo essere protagonisti nella nuova storia di successo delle criptomonete, avremo un importante spillover che andremo a vedere nello specifico in un altro video formativo per chi appunto vuol fare network, ovviamente aiutando a costruire la comunità potrai avere sempre più first coin, la potenza della comunità può assolutamente aumentare il valore di first coin e ci sono soprattutto diversi tipi di bonus in questo network. Ovviamente questa è una presentazione che deve parlare dell'aspetto generale e ripeto faremo dei video specifici per i networker e per chi vorrà collaborare strettamente con noi. Eccoci arrivati alla fase calda della presentazione, proprio perché è importante capire come funziona il meccanismo delle criptovalute e perché l'idea di first coin è in assoluto la più innovativa per ciò che riguarda creare una comunità che sposa una criptovaluta già esistente e che la vuol far crescere di valore, questo è importantissimo. Allora qual è il problema principale delle criptovalute oggi? Ovviamente non di tutte, ma di quelle diciamo che sono piccole e non riescono a crescere e che tutti vogliono vendere velocemente sugli exchange e fare speculazione anche nelle piccole diciamo criptovalute, soprattutto in quelle, e se tanti vendono e pochi comprano ovviamente il valore cala. Sono proprio usate completamente come mero oggetto speculativo. Cosa fa First Coin? Protezione asset. Allora come fare per proteggere il valore della moneta e vedere il prezzo salire sempre nel medio lungo periodo? Attenzione signori perché questa è la parte più importante del progetto e più importante della presentazione. Si può solamente comprare First Coin ovviamente negli exchange pubblici e riconosciuti. Inoltre c'è sempre una continua e sana compravendita perché grazie alle partnership collegate a First Coin e quelle che arriveranno e che ovviamente utilizzeranno la moneta come una moneta reale appunto, una criptomoneta reale, non solo speculativa e soprattutto grazie al fatto che solo usando First Coin noi possiamo comprare i mining pack che l'azienda offre e quindi ritirare e quindi spostare nel proprio e-wallet i nostri First Coin. Insomma nella piattaforma si fa tutto in First Coin. Sempre più persone faranno una sana compravendita di First Coin. Quindi la moneta si usa e si userà. Infatti come potete vedere questo asset protection program si basa su una criptovaluta verificata e sull'espansione dell'accettazione online di questa valuta. Infatti per esempio in livecoin.net che è un exchange si può comprare e vendere First Coin. Abbiamo fatto un video per questo nei nostri canali. Il portafoglio elettronico First Coin. Ovviamente potete andare a verificare il suo andamento nel coinmarketcap.com dove trovate tutte le criptovalute esistenti e reali ed ovviamente tutto ciò è scaricabile dai più comuni sistemi operativi. Questo è il grafico che fa vedere l'incremento del valore di First Coin nell'ultimo mese la vera e propria impennata. Diciamo che siamo in una fase di prelancio ma il network sta iniziando a galoppare velocemente e soprattutto in quanto poco tempo perché pensando che è partito con un valore di 0,50 centesimi pochissimi mesi fa guardate appunto ha già superato il controvalore di 1,70 oggi 25 maggio 2017. Per ultimo ma non per importanza è la testimonianza di Christopher Reeder CEO di Cointed Bitcoin Exchange Austria che hanno esaminato la parte del codice sorgente che è stato inviato da First Coin e garantisce che questo codice sorgente è valido quindi First Coin è una reale criptomoneta. Ok ora possiamo entrare un po' nello specifico per ciò che riguarda la carrellata di pacchetti di mining. Questi sono i prezzi in controvalore in dollari perché ripeto si fa tutto in criptomonete e quindi in First Coin le percentuali di mining che avete al mese a seconda del vostro pacchetto un mining che dura per sei mesi esattamente Anna esattamente in questo momento al controvalore di 1,60 e passa 1,70 ovviamente avrete meno First Coin con il pacchetto e quindi questo è proprio il motivo per il quale è veramente il momento di entrare perché siamo in fase di prelancio si può prendere una posizione gratuita ma soprattutto è il momento di comprare questi First Coin perché stanno crescendo a vista d'occhio. Per riassumere quindi voi acquisterete un pacchetto di mining di First Coin che a seconda appunto del pacchetto che sceglierete vi porterà un tot di First Coin. In questa grafica invece possiamo vedere oltre appunto le percentuali di mining che avrete durante il vostro abbonamento di sei mesi al servizio anche le varie share che avrete a seconda del pacchetto che si sbloccano appunto dal pacchetto business inoltre vi è anche un pool del 5% che necessita appunto una qualifica per tutti questi diciamo questa tipologia di pacchetti mentre per gli ultimi due sarete già qualificati per questo 5% le commissioni dirette sulla vendita sul passaparola sulla vendita dei pacchetti sono del 10% per tutti il binario sono il del 5 dell'8 per i primi due pack e poi del 10 per tutti gli altri il matching bonus parte dal pacchetto networker. Per riassumere sfruttare la potenza del network per aumentare la domanda della moneta First Coin e farne esplodere il valore. Questo è il riassunto del piano compensi quindi ovviamente in base al valore del pack oppure meritocraticamente come abbiamo già detto e sottolineato si potranno avere questi vantaggi e benefici e si potrà appunto fare tranquillamente un upgrade al proprio pacchetto pagando la differenza in qualsiasi momento anche con i First Coin maturati dalle commissioni e dal servizio di cloud mining che avete appunto preso inizialmente. Quindi quali sono gli obiettivi nei prossimi due anni di First Coin? La vision di First Coin? Continua presenza e sempre più esponenziale nei portali exchange riconosciuti e pubblici. Riconoscenza a livello internazionale e quindi diffusione capillare globale degli ATM e dei centri di accettazione ovviamente di questa criptomoneta, supportare compagnie, startup soprattutto digitali che accetteranno First Coin, arrivare al controvalore di 100 dollari nell'arco di due anni, questo per chi entra ora potrebbe essere veramente un'occasione eccezionale, raggiungere i 100 paesi e i 20 milioni di fruitori appunto di First Coin. Già 49 paesi stanno lavorando per aumentare esponenzialmente la rete commerciale di First Coin Club e non mi stancherò mai di dirlo grazie al fatto che questa moneta è reale e già esistente tutto questo è assolutamente possibile. La questione è molto semplice, la criptovaluta è sicuramente il futuro dell'economia e se non si entra ora da protagonisti lo si dovrà fare sicuramente in un futuro da semplici fruitori, quindi senza troppe possibilità di guadagno. Crea la tua libertà e vivi la tua vita. Abbiamo una grande possibilità in First Coin, finalmente una moneta reale con un progetto reale, quindi non esitate a chiedere informazioni, un caro saluto, a presto!